Sono in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto le due persone arrestate a Narro perché hanno segregato in catene un disabile di 30 anni. Si tratta di VA e di VA. Sono le iniziali dei nomi di 53 e 52 anni, due coniugi, tutori dell'uomo affetto da problemi psichici. I due coniugi sono gli zii del disabile. Lui è stato affidato a loro perché anche la madre di lui soffre degli stessi problemi psichici. L'inchiesta, condotta dai carabinieri, è stata coordinata dal procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio e dalla sostituto procuratore Gloria Andreoli. Gli investigatori hanno installato delle telecamere e, grazie a pedinamenti e intercettazioni, hanno ricostruito le giornate di orrore vissute dal disabile psichico, costretto legato con una catena al piede. Per i due tutori l'imputazione di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. La sindaca di Narro, Maria Grazia Brandara, ha commentato È una vergogna che ferisce la nostra comunità. Sono certa di parlare a nome di tutti i miei concittadini. Sono comportamenti inqualificabili, esecrabili e meschini. I carabinieri della stazione di Narro e della compagnia di Licata descrivono quanto scoperto nell'abitazione come Una scena agghiacciante, quanto orribile, ai limiti dell'inverosimile. Il trentenne era tenuto legato al letto con una catena alla caviglia, a sua volta assicurata da due lucchetti. In tal modo il giovane non poteva allontanarsi dal suo letto prigione. All'arrivo dei militari, aggiungono gli investigatori, i due tutori si sono mostrati sorpresi E hanno farfugliato giustificazioni prive di senso. Il giovane era legato al telaio del letto con una catena di non più di un metro Che gli consentiva malapena di poggiare i piedi a terra. I carabinieri si sono subito preoccupati di rassicurare lo sfortunato. Lui ha addirittura aiutato i militari ad aprire i lucchetti. Si è alzato in piedi e ha ringraziato i carabinieri. È stato liberato e condotto in un centro specializzato per le dovute cure e l'assistenza necessaria. I carabinieri hanno organizzato una colletta tra di loro e si sono recati a trovarlo.